Buongiorno, ben ritrovati. Oggi ho il piacere di poter condividere con voi l'esperienza di una mia cara amica che ha recentemente partorito. Ho pensato che possa essere utile darle l'opportunità di condividere con voi la sua esperienza. Uno, perché il bimbo che è nato è il suo terzo genito, quindi è nato quello che noi nel gruppo di amici abbiamo un po' ribattezzato come pandemio, perché è figlio della pandemia, quindi è nato in una condizione straordinaria. Ma è appunto il suo terzo genito, quindi questa mia cara amica ha avuto l'opportunità di poter così vedere e sentire su di sé la differenza tra l'aver partorito in condizioni normali e con il covid-19 nelle nostre vite. In secondo luogo ho ritenuto opportuno dar voce a lei perché è mamma ed è appena attraversato questa esperienza, quindi l'averla vissuta su di sé può dar maggior, mi auguro, coraggio e serenità a voi mamme e a tutte le mamme che sono ancora in attesa di vedere e di ammirare la faccia del vostro, il viso del vostro piccolino o della vostra piccolina. Quindi do la parola a Valentina. Grazie mille Vale. Ciao future mamme, accolgo con piacere la richiesta che mi ha fatto la mia amica Chiara perché una settimana fa è nato il mio terzo bimbo e mi ha detto un po' di raccontare la mia esperienza ai tempi del covid, com'è partorire da sole, non avere visite. Io ho partorito l'ospedale di magenta. Devo dire che in linea generale l'ansia da virus, paura del contagio nel reparto non l'ho vissuta perché è un reparto che è chiuso con questa scelta di non far entrare neanche i papà e non si percepisce quindi questo timore o quantomeno io non ci pensavo neanche. C'è tutta la parte emotiva quindi rispetto alle altre mie due gravidanze che ovviamente ho vissuto con la serenità, la tranquillità per così dire perché le paure, le ansie di fine gravidanza c'erano tutte le mamme anche se è il primo, il secondo, il terzo figlio o anche di più quindi i vari timori del parto, che vada tutto bene, che sia sano, ci sono. Adesso dobbiamo aggiungere anche questa emergenza sanitaria che purtroppo ti impone questa quarantena anche in ospedale dove appunto non hai l'appoggio nelle visite di parenti, di amici, del papà, dei nonni. è sicuramente un po' triste però l'unico consiglio che magari vi posso dare se sceglierete una struttura che vi terrà appunto isolate solo col vostro bambino è di sicuramente portarvi un libro, leggere se vi piace leggere, ascoltare musica, io non l'ho fatta queste cose e magari di scrivere anche un diario delle emozioni, cioè provate a buttare giù i vostri pensieri che poi una volta tornati a casa conserverete, vi leggerete negli anni a venire. Nel mio caso specifico io ho partorito proprio da sola perché il mio compagno aveva avuto la febbre quindi mi hanno tenuta isolata. È stato un po' pesante però essendo per me la terza volta dal parto almeno sapevo che cosa dovevo fare e va bene, non ho pensato troppo materialmente a quello che dovevo fare insomma perché lo sapevo. Però mi è dispiaciuto sicuramente non avere lui o mia mamma perché doveva esserci mia mamma eventualmente visto che lui sviene di supporto. Però ripeto si supera perché comunque poi in quei giorni sarete col vostro bimbo o la vostra bimba, è forse un percorso un pochino più introspettivo, c'è meno la gioia l'entusiasmo delle visite, dei regali, però allo stesso tempo sarete sommersi di messaggi dalle persone che vi vogliono bene. Quindi anche questa cosa vi farà sentire tranquille, amate, tanta gente si interesserà a voi. Il consiglio quindi è questo, di far passare quei due o tre giorni di degenza nel migliore dei modi, ricordandovi che volano, cioè comunque ci sarà un po' di noia ma poi si torna a casa e lì inizia la vera avventura e sì sicuramente rispetto alle mie altre due gravidanze ecco viene tolta un po' questa magia, inutile negarlo, del condividere una gioia insieme ad altre persone, ma si recupera poi a casa. O quantomeno quello che io stavo valutando adesso col mio compagno era che, essendo Zeno nato una settimana fa, siamo in pieno coronavirus ancora, però si spera che nelle prossime settimane la situazione si migliore un po' e quindi magari avremo la possibilità di portarlo anche in giro. Chi ha partorito invece magari a febbraio, quando ancora i focolai non c'erano, il virus si stava, cioè l'emergenza stava ancora per nascere, si sono passati questi due mesi praticamente chiusi in casa, quindi la nostra speranza, cioè di chi sta per partorire adesso in queste settimane o nelle prossime settimane, è che poi magari l'emergenza rientri un po' e si possa tornare veramente a una vita seminormale, quantomeno appunto portare fuori i nostri piccoli e anche noi stesse mamme a farci le passeggiate perché ci fa proprio bene. Quindi pensiamo la positiva così. A livello, ripeto, di paure nel reparti o nelle sale parto, no, non abbiatene, tutti sono con la mascherina, è tutto abbastanza protetto e una volta che nascerà vi sentirete delle leonesse perché soprattutto se farete un parto naturale avrete questa sensazione, ma penso che anche col cesario comunque la gioia è talmente immensa che ve la vivrete bene e tanti auguri, semplicemente questo, un po' più isolate, un po' più protette, però l'importante è che vada tutto bene e poi la gioia sarà immensa. Auguri a tutte, ciao!